Sono estraneo alla vicenda, ho sempre agito nell'ambito della legalità e della correttezza, nel massimo rispetto degli interessi legittimi delle aziende, sia di Coingas, di Estra, sempre negli interessi del popolo aretino e di questo territorio. Estra la regia, il presidente Francesco Macri, invece il dominus dell'operazione Coingas. È questa l'ipotesi della procura di Arezzo che sta cercando di far luce sulle consulenze considerate salate pagate dalla partecipata della comune di Arezzo e per le quali è finito sotto inchiesta anche il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, indagato per favoreggiamento. Per il presidente di Estra, la cui posizione resta ancora tutta da chiarire, la procura aretina procede per abuso d'ufficio. Il suo nome appare numerose volte nelle carte dell'inchiesta. Secondo l'accusa delineata dalla Digos, sarebbe stato infatti proprio lui il regista dell'affido delle due consulenze esterne, una allo studio legale fiorentino Olivetti Rason e l'altra al professionista aretino Marco Cocci. Ad oggi non è arrivato alcun avviso di garanzia? No, l'ho letto dai giornali, quindi è una cosa amareggia, però siamo assolutamente sereni e procederemo nei prossimi giorni con tutte le azioni necessarie per chiarire tutto. Sono certo che si chiarirà tutto. Sono in tutto nove attualmente i nomi iscritti nel registro degli indagati, oltre al primo cittadino di Arezzo, l'attuale amministratore di Coingas, Franco Scorteci, e la ex dipendente Mara Cacioli, anche loro indagati per favoreggiamento. Stessa accusa anche per l'avvocato del comune di Arezzo, Stefano Pasquini, che firmò il parere di congruità per le consulenze salate. Di concorso impeculato invece sono accusati l'assessore al bilancio del comune aretino Alberto Merelli, l'ex amministratore di Coingas a Sergio Saderini, Marco Cocci, il commercialista aretino a cui Coingas ha pagato consulenze per 140.000 euro, ed infine l'avvocato Ettore Rason dello studio Rason Olivetti, anche lui destinatario di una serie di incarichi per oltre 300.000 euro.